come sei messo sto muovendo non lo so dove siamo siamo fuori strada continuiamo a muoverci se arrivate per primi alla stazione dovrete guidarci d'accordo d'accordo hai sentito presto sarà giorno ok ci resta poco tempo dobbiamo dividerci e trovare quella stazione spero di aver preso la strada giusta e ci spero anch'io eccoli un ferme è andato un 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 E vai! Quanto cavolo è grossa questa miniera? Dobbiamo essere vicini. Mait, ci siete sempre? Sì, purtroppo. Non ferma, è morto. Attenzione! E vai! In piedi! In ferma e morta! Granata! Oh, merda! Corzer! Eh, o lui o noi, non si torna dietro. Ehi, qui c'è un guard. Cavolo, questo spiega il terremoto. Ok, ci muoviamo. Grazie! C'è un piatto! No, no, no. Ci deve essere un modo per fermarlo. Pensa che l'abbiamo fatto incazzare! Abietti! 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 Ti deve essere un modo per ammazzarlo! Abietti! 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 Mi avrà fatto male? Abietti! 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 Va bene, King! BOOM! Favietti! 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 Magus! Grazie a tutti.